Diversi studi scientifici, hanno rilevato che un consumo moderato di birra, può contribuire a mantenere un buono stato di salute. In particolare, le ricerche effettuate hanno evidenziato alcune proprietà della birra in grado di prevenire alcune patologie, come Diabete Calcoli renali Alzheimer e altri tipi di demenza Infarto e ictus cerebrale Ipertensione Osteoporosi Inoltre, le sostanze contenute nella birra, se assunte in moderazione, possono migliorare la vista. E la creatività. Osteoporosi Osteoporosi